Ciao a tutti, sono Federino Garcea, amministratore di Tridom, una start-up fiorentina che calcola e neutralizza le emissioni di CO2 attraverso progetti di forestazione. Siamo partner di Corrente in Movimento, per questo progetto abbiamo calcolato le emissioni poche, quasi la metà, di CO2 prodotti per ricaricare questa macchina elettrica e abbiamo piantato 15 alberi in Cameron.